Forte dei Marmi ospiterà l'edizione numero 45 del Premio Satira, una manifestazione che si propone di intercettare i professionisti della risata intelligente dal cinema al fumetto, dalla tv al web, dando spazio a un altro modo di raccontare la realtà. Location della serata sarà la Capanina di Franceschi, dove il prossimo 16 settembre si alterneranno personaggi come Fiorello, Ficarra e Picone, la vignettista del New Yorker Liza Dunnelli, il giornale francese L'Icanard d'Anchene, i creatori delle più belle frasi di Osho, l'Istituto Lupe e il fenomeno Humarels. A condurre la serata ci sarà Serena Dandini. L'edizione di quest'anno vedrà premiare coloro che si sono dedicati con sarcasmo ed ironia alla descrizione della politica e dei fatti di attualità degli ultimi 12 mesi, strappando un sorriso non banale sulle amarezze e le stranezze del mondo. Grande protagonista dell'evento sarà Fiorello, che si preannuncia mattatore della serata. Lo showman siciliano sarà infatti insignito di uno speciale premio alla carriera al fine di celebrare tutte le battute e provocazioni da lui lanciate nel corso degli anni. Infine presso il Museo della Satira di Forte dei Marmi sarà allestita una mostra satirica dedicata al fenomeno Trump, che si protrarrà fino ad ottobre. Appuntamento il 16 settembre a Forte dei Marmi con l'edizione numero 45 del premio Satira.